Sono molto felice di ospitare il BEA Aldemol perché ritengo sia l'anno giusto per ospitare il BEA Aldemol, il BEA e il BEA World Aldemol, le cerimonie di prevenzione perché è un anno anche importante diciamo dello sviluppo di tutto il comparto location che Big Spaces oggi sta gestendo. Ci vediamo protagonisti ancora dei prossimi dieci anni perché il nostro cliente cioè il nostro gestore Coima e SGR continua a portare avanti il suo progetto di sviluppo immobiliare nell'area Porta Nuova, Garibaldi Isola, Varesine e poi a seguire Farini, Gioia e di conseguenza stiamo facendo un passaggio epocale nel senso da gestire location a gestire una destination, un distretto e questa cosa veramente rappresenta una nuova era di questo lavoro. Io penso che avere tutti gli ospiti in casa nostra darà sicuramente una visione più chiara di dove siamo arrivati nel senso che una società che fa venue management alla fine ha bisogno di gestire qualcosa e quel qualcosa non può più essere una singola location seppur bella che sia ma un distretto e trasformando questo distretto in una destination che è un tutt'uno con la città di Milano. Per me questa è una grandissima sfida, sono molto felice di avere l'organizzazione voi tutti, perciò eventi, ADV Express e tutto il sistema di Salvatore Sagone che ha organizzato, che organizza questo da molti anni, sono molto felice di ospitarvi e sono sicuro che sarà un successo per tutte le agenzie che saranno pronte a ricevere premi, per l'organizzatore ma soprattutto per noi che avremo una grandissima opportunità di enfatizzare questo grande cambiamento perciò lo ripeto da location a destination.